Amici del Bardo, eccomi qui con tutte le ultime news provenienti dal mondo della WWE. E non solo. Partiamo da Kurt Angle, che sarà il personaggio bonus per i pre-order di WWE 2K18, il videogioco in uscita a metà ottobre. Angle ha anche dichiarato di recente che Rusev potrebbe essere l'avversario ideale da affrontare, sia perché ama il suo stile di lotta e sia perché sarebbe facile scrivere una storia interessante tra i due. Siete d'accordo con lui o siete in disaccordo? Qua sotto fatemelo sapere nei commenti. Voltiamo pagina e passiamo a Matt Hardy, che ha lasciato intendere di essere molto vicino ad ottenere i diritti sul personaggio Broken Matt, di modo da poterlo eventualmente proporlo in futuro anche in WWE. Paige, che è ancora sotto contratto proprio con WWE, è stata ospite del backstage di Slam Anniversary, un pay-per-view di Impact GFW. Adesso non so ancora bene come si chiamerà la nuova federazione, la ex TNA. Non solo. È assai probabile che l'inglesina si sia appostata a bordo ring, nascondendosi il volto dietro ad una maschera, pur di assistere al match del fidanzato Alberto Del Rio. Se così fosse, e qualora non avesse ricevuto il permesso da WWE per fare tutto questo, beh, per lei il futuro potrebbe essere anche abbastanza burrascoso. La mia sensazione è che stia tirando troppo la corda. Paige, dovresti tenere un profilo più basso e ha avuto anche due sospensioni per il wellness program. metterti in evidenza in maniera così negativa non porta acqua al tuo mulino. Più passa il tempo e più io temo che tu ti stia bruciando e che tu ti stia dedicando troppo ad altre cose e troppo poco al wrestling. Almeno questa è la mia opinione. Ed è un vero peccato perché la ragazza il talento grezzo ce l'aveva. Forse, e lo ribadisco, ha raggiunto il successo troppo alla svelta, troppo velocemente, e da lì non è riuscita a gestirlo. Insomma, però qua sotto nei commenti mi piacerebbe leggere le vostre opinioni al riguardo. Vi ricordo che domani rivedremo in azione John Cena. Io vi aspetto in tanti su Sky Sport per SmackDown. Negli ultimi giorni, come avrete sentito, il wrestling è stato al centro dell'attenzione mondiale perché Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha modificato un vecchio video WWE per mostrare se stesso, vi ricorderete lui aveva fatto parte di alcuni show, mentre picchia un fantasioso uomo CNN, il canale Reo, a suo avviso di riportare false notizie al fine di screditarlo. Beh, la cosa è abbastanza divertente, però non è una grande pubblicità per il wrestling, sì, è sulla bocca di tutti, ma preferisco cose dove la disciplina viene investita da una luce positiva. Ultimi fuochi d'artificio per i Colon. Stando a alcuni siti sudamericani, i due avrebbero chiesto il rilascio da parte della WWE, però al momento la cosa va presa come un rumor, visto che non c'è alcuna ufficialità. Invece Baron Corbin ha rivelato, e credo che molti se lo chiedessero, di portare sempre con sé la valigetta del Money in the Bank e ha aggiunto che la cosa gli sta procurando parecchie noie, soprattutto in aeroporto, perché tutti vedono questa valigetta, vedono la scritta Money in the Bank e si incuriosiscono e vogliono farsi una foto ricordo, anche chi non segue il wrestling. E dunque la cosa sta diventando un pochino, come dire, ripetitiva e un pochino pesante da sopportare. Becky Lynch ha dichiarato che secondo lei tra un paio di anni ci sarà la possibilità di organizzare una Royal Rumble solo al femminile, forte anche del fatto che sempre più ragazze stanno intraprendendo la strada del ring e in più con il torneo, il May Young Classic che dovrebbe esserci a breve, in WWE arriveranno anche numerose wrestler aggiuntive. Voi che ne dite? Ha ragione Becky oppure sta un po' correndo con la fantasia? Anche qui di Tarro 20 qua sotto fatemi sapere quello che ritenete sulla news. Ogni tanto mi distraggo perché sono in una zona diversa dal solito e passa un sacco di gente che mi guarda, mi osserva. Chiudiamo con Chris Jericho con una news che non farà felicissimi i suoi tanti fan perché di recente Chris ha partecipato al tour giapponese della WWE aggiungendo che probabilmente questo è stato il suo ultimo urrà cioè la sua ultima permanenza di medio corso con la compagnia visto che intende riprendere la sua carriera da musicista con i Fozzi che è stata ferma praticamente per quasi un anno e poi probabilmente vorrà anche seguire altri progetti artistici lui che è un vulcano in perenne eruzione. E se la carriera di Chris dovesse concludersi qui quali sono stati i momenti che più vi hanno emozionato della sua epopea in WWE ma anche nelle altre federazioni in cui ha combattuto. Anche questo è un tema di discussione che potete sviluppare qua sotto. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che stasera a Raw è alle 19 su Sky Sport 3 quindi mi raccomando siateci. Alla prossima!